Nei primi nove mesi del 2019 il valore delle esportazioni della provincia di Arezzo è cresciuto complessivamente di 1,7 miliardi di euro, più 35,2% rispetto allo stesso periodo del 2018, attestandosi a 6,530 miliardi di euro. Il saldo commerciale presenta un avanzo di 2,2 miliardi. Un dato sorprendente, sottolinea il presidente della Camera di Commercio Guasconi, basti pensare che si è quasi raggiunto nel terzo trimestre il valore complessivo dell'export dello scorso anno. Un dato che comunque in maniera determinante è condizionato dalla performance dei metalli preziosi che rappresentano la voce più rilevante dell'export provinciale, arrivano a sfiorare i 3 miliardi di euro. È il segretario generale della Camera di Commercio Giuseppe Salvini però a contestualizzare questa crescita. Nei periodi presi in esame, dice, è cresciuta l'incertezza delle prospettive economiche mondiali, soprattutto per la debolezza del commercio internazionale e per le tensioni legate all'adozione di politiche protezionistiche. Un'incertezza che ha incrementato la domanda di oro da parte degli istituti bancari e degli investitori con conseguente aumento del prezzo. Dai dati pubblicati dal World Gold Council emerge che l'oro ha presentato nel terzo trimestre una crescita dei prezzi del 27% nelle quotazioni in euro, portando la variazione dei primi nove mesi dell'anno a un più 12,9%. I risultati dell'export nel comparto orafo vanno quindi depurati dall'aumento del prezzo del metallo. In modo più realistico, continua Salvini, si può parlare di un risultato prossimo alla stabilità, se non moderatamente negativo per l'orificeria, è un po' meno brillante, ma sempre largamente positivo, per quanto riguarda i metalli preziosi. Il confronto con gli altri due distretti nazionali conferma comunque la maggior vitalità grazie alla capacità innovativa degli oltre 1.200 imprenditori orafi del polo di Arezzo. Vicenza infatti è in crescita del 5,3%, Alessandria si ferma al 7%. Analizzando i principali mercati di riferimento dell'export orafo aggettino, gli Emirati Arabi Uniti crescono del 14,3%, Hong Kong del 17%, Turchia del 15,5%, Stati Uniti del 35%, cresce anche il comparto della moda, più 1,5%, attestandosi a quasi 570 milioni di euro. Anche tra gli altri settori ci sono molti segni positivi, apparecchiature elettriche più 21,4%, prodotti chimici più 16%, bevande più 9%, a conferma della dinamicità dell'export della provincia di Aghezzo.